Musica Questa mattina abbiamo avuto l'occasione in commissione presso il Consiglio regionale di raccontare questo primo anno intenso di lavoro come difensore civico per l'anno 2023, le istanze che sono state presentate sono 1636, al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il difensore civico sia il più possibile un'azione di qualità. Un anno di lavoro per il difensore civico della Toscana in commissione affari istituzionali il bilancio dell'attività svolta, un servizio gratuito a favore dei cittadini toscani con numerosi ambiti di intervento. E quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo per chiedere, sollecitarle anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi è cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto che anche come difensore civico possiamo dare ai nostri cittadini. Quali le principali materie che vi vengono sollecitate dai cittadini? I servizi che offre il difensore civico sono completamente gratuiti. Un'attività molto importante a cui noi teniamo molto è quella per esempio di conciliazione con IT e quindi sul servizio idrico. Ci occupiamo chiaramente dell'ambito sanitario e il nostro sforzo ulteriore è stato quello di costruire un rapporto diretto e proficuo di confronto con le aziende sanitarie attraverso gli URP. Adesso anche una rinnovata campagna di comunicazione per fare a conoscere le attività del difensore civico. Siamo anche impegnati per diffondere la conoscenza del difensore civico nel territorio regionale quindi attraverso i nostri sportelli di difesa civica. Una cosa importante abbiamo anche oltre al logo, lo slogan, abbiamo rinnovato anche interamente il sito del difensore civico e attraverso il nostro sito è possibile per cittadini e associazioni presentare attraverso un modulo la propria istanza di tutela. Quindi anche in questo diamo un supporto, una guida al cittadino. È importante però che il cittadino a sua volta si senta responsabilizzato quando si rivolge a noi, quindi che ci fornisca una documentazione completa che segue anche i passaggi di cui noi abbiamo bisogno, quindi che inizialmente interagisca con la pubblica amministrazione e poi arriviamo noi se necessario per fare da tramite, fare in modo che le azioni reciproche siano il più possibile soddisfacenti per un po' la comunità. L'attività del difensore civico della Toscana è stata al centro di una discussione in Consiglio regionale dove sono stati illustrati i dati di quanto fatto nel corso del 2023 ed è stata messa ai voti una risoluzione passata a maggioranza con il CDPD Italia Viva e Movimento 5 Stelle e l'astenzione dei gruppi di Lega Fratelli d'Italia e del gruppo misto. La risoluzione, come spiega il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, esprime apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani oltre 1.600 nel corso del 2023 che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Una conferma, dice Stefano Scaramelli, della scelta fatta sul nome del difensore civico della Toscana. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina ma che oggi col passare del tempo dà valore e anche senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno estanza, un livello di garanzia, di imparzialità e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Per le opposizioni di centro-destra però la relazione sull'attività 2023 è generica e non puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece costatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno. Quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunci e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e Anac e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo ecco crederci nella diffusione della difesa civica. La genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione non mi permette di poterlo aiutare. Cioè lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolte a lui per la sanità che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana dall'altra però non parla di territori di quali territori hanno avuto le criticità maggiori in quale caso si sono verificate le criticità perché cosa? Sì, le liste d'attesa ma è troppo generico parlare in questo modo perché se avesse al limite anche contattato proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Il sito del difensore civico è stato rinnovato questo è importante ma come figura rimane ancora una figura quasi mitologica cioè molto spesso la gente non sa di potersi rivolgere al difensore civico È una rivoluzione, è il punto focale, è il punto centrale del dibattito che stiamo facendo oggi se parliamo di transizione verde dobbiamo in qualche modo eliminare l'uso dei combustibili fossili ora il mezzo elettrico, non necessariamente un'automobile ma in parte anche sia un'automobile è il punto focale della transizione perché se non ci liberiamo del combustibile principale cioè quello che dà i maggiori profitti all'industria petrolifera all'industria dei combustibili fossili quello che è il petrolio dal quale si fa benzina e gasolio a quel punto non avanzeremo veramente nella transizione quindi questo è il punto centrale e anche la ragione perché c'è tanta pubblicità denigratoria nei riguardi delle auto elettriche è perché funzionano e sono un rischio per quelli che oggi hanno i loro profitti sul petrolio il futuro dei veicoli elettrici la sfida di una nuova mobilità che faccia meno dei combustibili fossili di questi temi parla Ugo Bardi nel suo volume il futuro del trasporto come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita il libro è stato presentato a Palazzo del Pegaso dove nel dibattito sono intervenuti anche la stessora regionale all'ambiente e il presidente della Commissione Politiche Europee è una sfida è una scommessa ma soprattutto riteniamo sia un appuntamento che non ci possiamo permettere di mancare e servono elementi di approfondimento di conoscenza, di valutazione anche per aprire un dibattito per raccogliere le varie opinioni e per mettere in condizioni soprattutto le cittadine e le cittadine di avere una consapevolezza rispetto a questi argomenti uno dei tratti maggiormente interessanti dal mio punto di vista di questo libro e che ad esempio vengono forniti elementi di valutazione rispetto anche a quelle che potremmo definire le fake news piuttosto che le narrazioni spesso strumentali come dice il professor Bardi rispetto a questo argomento quindi è un libro ben scritto interessante e che offre appunto un'occasione per avere elementi di valutazione un tema che ci sta a cuore perché come sappiamo nel 2023 ci sono stati 120 femminicidi 120 donne che sono state uccise da un ex marito da un ex partner anche da un familiare addirittura soltanto per il fatto di essere donne solo che il femminicidio è soltanto un atto estremo è l'apice di comportamenti atteggiamenti che sembrano ormai radicati nella società ma che sono ugualmente sbagliati ed è per quello che nel nostro evento vogliamo concentrarci sul tema della violenza di genere però vista da diverse sfaccettature con questo evento come Parlamento degli Studenti vorremmo dare delle linee diverse quindi la violenza che c'è stata nei confronti delle donne dal punto di vista storico come dimenticanza del loro ruolo importante all'interno della resistenza all'interno di quella che è stata la costruzione dello Stato italiano ma allo stesso tempo la violenza che viene perpetuata e di cui meno si parla che è la violenza economica perché non è una privazione di libertà soltanto quella in cui viene tolta la vita non è soltanto quella nella quale una donna si trova in catene soltanto fisicamente ma anche psicologicamente quindi il messaggio che cerchiamo di lanciare è quello che a noi giovani importa non solo come tema fattuale ma come diciamo esempio di cambiamento che si può raggiungere tramite la valorizzazione di quello che è il genere femminile in tutte le sue forme in tutti i suoi aspetti contrariamente a come viene fatto ormai in una società che è sempre più violenta e sempre meno inclina al rispetto lividi invisibili la violenza di genere vista dai giovani è l'iniziativa promossa al cinema teatro la compagnia di Firenze dal Parlamento regionale degli studenti della Toscana dai dati i 123 femminicidi registrati in Italia nel corso del 2023 alla riflessione sulla violenza in tutte le sue sfaccettature una giornata di confronto che ha visto gli studenti assieme a importanti realtà l'Istituto Storico della Resistenza della Toscana il Centro Antiviolenza Artemisia la Presidenza della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale e la Global Thinking Foundation Artemisia sul territorio da 30 anni lavora contro la violenza di genere contro la violenza sulle donne sui bambini e sulle bambine e oggi vogliamo stare con i ragazzi le ragazze per parlare di questo importante importante piaga della nostra società e vogliamo ascoltare le loro domande vogliamo far emergere gli stereotipi che ci sono dietro a questa realtà stare vicino a loro rispondere a tutte quelle che sono le loro curiosità quelle domande che non si di solito non hanno una risposta e vogliamo essere lì per poter pensare insieme a loro ragionare e immaginare una realtà diversa costruire quella cultura di genere che in qualche modo blocchi tutte le forme di violenza per tutti i generi quindi è importante che i ragazzi abbiano consapevolezza e coscienza di quello che sta succedendo e insieme lavorare per fermarlo solo in questo modo si può invertire la rotta loro hanno veramente un grande compito quello di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni situazione di violenza di discriminazione nei confronti delle donne nei confronti di tutti i generi debba essere fermato iniziativesalis iniziative l'inizio